Notizie meravigliose della Svizzera. Da domani, 17 febbraio 2022, non avrà più bisogno di presentare il Green Pass, o Covid Pass, per entrare in ristorante, negozio. E' stato proprio cancellato anche l'uso di mascherina nell'organo aperto o chiuso. Sarà necessario usare mascherina soltanto nel trasporto pubblico e per quelli che lavorano e che sono nell'ambito sanitario, ospedale e casa unziani. Notizie meravigliose, né? Questa è stata una decisione del Consiglio federale oggi, 16 febbraio 2022. Il Consiglio federale e il Ministero della Salute hanno deciso questo.